A pochi giorni dalla presentazione del bilancio consolidato 2018 del Creval, Mauro Selvetti, amministratore delegato e direttore generale del gruppo, ha rassegnato le dimissioni. Su richiesta espressa della banca di discontinuità, è scritto nel comunicato stampa diffuso da Creval oggi e nell'ambito di un accordo per la risoluzione consensuale economicamente incentivata. Tradotto di divorzio consensuale si è trattato seppur caldeggiato dalla nuova leadership del gruppo che evidentemente intende rinnovare in toto gli assetti di vertice. Selvetti è sempre scritto nella nota stampa, detiene 1.274.726 azioni del credito valtelinese e la banca gli corrisponderà, oltre a quanto già maturato a titolo di retribuzione, emolumenti, fissi, rate e competenze di fine rapporto per 1.700.000 euro lordi, con riferimento alla cessazione del suo incarico dirigenziale e alle dimissioni dalla sua carica di consigliere, e competenze per 300.000 euro con riferimento all'impegno di non assumere cariche in concorrenza della durata di sei mesi. Il CDA del gruppo, dopo averlo ringraziato pubblicamente per l'opera svolta in Creval, ha contestualmente deliberato di nominare Luigi Lovaglio, quale amministratore delegato e direttore generale del gruppo, affidandogli la definizione del nuovo piano triennale industriale, piano che verrà presentato entro il primo semestre dell'anno in corso. Lovaglio, già presidente Creval, opera da 40 anni nel settore bancario, ha ricoperto importanti ruoli di vertice nel gruppo Unicredit, fino al 2017 in veste di vicepresidente, direttore generale e amministratore delegato. Ad assumere la presidenza della banca sarà Alessandro Trotter, già vicepresidente vicario, nomina infine per cooptazione a consigliere di amministrazione della banca per Maria Giovanna Calloni, prima dei candidati non eletti, presentata dal socio di GFD.